Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, sulla A11 rallentamenti in direzione Pisa tra Monte Catini e Chiesina Uzzanese, sulla Fibili per lavori rallentamenti in direzione Mare tra Montopoli e Pontodera Ovest, rallentamenti tra Impoli e Montelupo in direzione Firenze e per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze in Pruneta e San Casciano e tra San Casciano e Bargino. Sulla A12 è chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!